Lavori straordinari in condominio. Quali sono gli aspetti che li regolano? Sentiamo l'avvocato Bortolotti. Nell'ambito della vita condominiale, una delle eventualità più rilevanti, di importanza più rilevante, è quella dei famosi, famigerati, lavori straordinari, lavori che comunque si fanno, si devono fare in condominio. Uso questa espressione perché tutti noi sappiamo che oltre alla spesa che comportano, praticamente sempre sono forieri di grandi discussioni, a volte anche grandi questioni, grandi litigi, e se non addirittura anche questioni che si risolvono in tribunale. Allora, è bene conoscere due o tre aspetti che sono propri di queste eventualità e che si devono tenere a mente per poter avere un minimo di nozione, un minimo di controllo più approfondito con riferimento a quello che accade quando vengono deliberati dei lavori sul nostro stabile, anche magari di portata importante. Allora, dobbiamo ricordarci alcuni passaggi fondamentali. Allora, i lavori in condominio, i lavori in particolare quelli straordinari, vengono naturalmente deliberati dall'Assemblea. Ecco, una volta che vengono deliberati i lavori, non è che la questione sia finita perché è stata presa una decisione, possiamo dire che è soltanto all'inizio. Quindi, se vogliamo avere un'idea di quello che sta accadendo, che poi ha un riflesso diretto sulle nostre tasche, è opportuno conoscere quelli che sono gli step fondamentali da qui in avanti. Quindi, in poche parole, non è che abbiamo finito votando la nostra delibera, ma se vogliamo occuparci di quello che accade, dobbiamo tenere presenti alcuni passaggi fondamentali. Cosa succederà dopo la delibera che autorizza i lavori straordinari? Ci sarà la scelta dell'impresa. La scelta dell'impresa è un passaggio, spesso e volentieri, affrontato nella maniera più superficiale possibile, perché la scelta dell'impresa si fonda quasi esclusivamente sull'esame dei preventivi. E voi direte, normalmente. Invece, il preventivo è soltanto un aspetto di quello che deve essere il ragionamento e l'esame che porta alla scelta di un'impresa, perché non ci si può fondare per le nostre decisioni esclusivamente su un aspetto economico. Ma un consiglio di condominio, per non dire un'assemblea, comunque un consiglio di condominio e un amministratore è accorto, deve operare sulle imprese che si sono presentate e candidate degli approfondimenti degli indagini di un certo tipo, in riferimento al numero di lavori posti in essere, quindi anche alla fama che si porta dietro questa impresa, anche a chi la rappresenta e magari, volendo essere anche i pignoli e con l'ausilio di un legale, anche un'indagine circa il volume di contenzioso che questa impresa ha. Perché è chiaro che se noi abbiamo la candidatura di un'impresa che ha decine di cause davanti a vari tribunali d'Italia, questo può essere una spia di gestione non tanto buona. Dopo la scelta dell'impresa ci sarà la sottoscrizione dell'appalto, l'appalto d'opera, che è il contratto che appunto riguarda la realizzazione dei lavori straordinari. L'appalto d'opera è un contratto, non ci dimentichiamo, che deve essere dovoriosamente assai analitico, mai generico. Quindi un consiglio di condominio o dei condomini che volessero esaminare questo contratto, ancorché non dotati della competenza necessaria ma che volessero approfondirlo, devono far caso a questi pochi aspetti, ossia che il contratto sia assolutamente analitico nel riportare, in primo luogo il capitolato, che è la descrizione, che ci deve essere sempre, di ciò che l'impresa si impegna a eseguire nel caso specifico, con l'indicazione di tutti i materiali e degli interventi e delle finiture che verranno utilizzate. Quindi il capitolato è una parte del contratto d'opera che deve essere sempre presente e molto preciso. Deve essere presente poi anche il cosiddetto computometrico, che al di là della parola un po' complicata non è altro che l'indicazione di quello che noi andremo a spendere a misura di lavoro eseguito. Quindi anche questo, in relazione alle nostre tasche, può essere un aspetto da valutare, per vedere se è stato rispettato anche quello che era stato promesso in preventivo. E poi dovrà essere esaminato il progetto, cioè non esiste un'indicazione vaga di quello che dovrà essere effettuato e realizzato con riferimento alle facciate del nostro stabile, ma il progetto di lavoro deve essere ben chiaro all'interno del contratto di appalto e da noi esaminabile. Dobbiamo ricordarci che esiste sempre un termine iniziale e un termine finale molto preciso dei lavori, con la possibilità eventualmente di proroghe stabilite con l'amministratore o col consiglio di condominio e con l'esistenza soprattutto di clausole penali per ritardi che non sono motivati da giustificazioni fondate. Cosa ci dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordarci da condomini accorti che l'amministratore di condominio ci deve far vedere assolutamente l'assicurazione che è stata stipulata dall'impresa appaltatrice, cioè l'impresa che farà i lavori, a copertura di qualunque guaio, qualunque problematica dovesse nascere all'interno dei lavori gravosi che andranno a essere fatti, ossia danni a terzi, errori di progetto, qualunque tipo di problematica durante le lavorazioni, danni a proprietà private dei condomini. Senza questa assicurazione, e i casi sono anche abbastanza frequenti, i problemi diventano poi veramente di difficile soluzione. Un ultimo aspetto che riguarda un diritto dei condomini è quello dell'indicazione dei soggetti ai quali i condomini stessi si possono rivolgere in ogni momento per avere informazioni, chiarimenti o anche per sollevare delle osservazioni, delle critiche con riferimento all'andamento dei lavori, ovviamente critiche fondate, si spera. I soggetti a cui fare riferimento sono ovviamente l'amministratore, che come abbiamo detto tante volte è il nostro mandatario, cioè è colui che ha l'incarico da parte nostra di occuparsi bene e diligentemente degli affari delle parti comuni, e il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è una figura che ha un mandato da parte dell'amministratore, quindi sostanzialmente da parte nostra, a vigilare sul corretto adempimento, sul corretto svolgimento dei lavori da parte dell'impresa, sotto l'aspetto meramente tecnico. Quindi se noi dovessimo avere delle incertezze, dei dubbi o anche lanciare degli allarmi sui lavori che stanno facendo sul nostro stabile, abbiamo tutto il diritto, senza ovviamente trascendere nelle molestie, però abbiamo tutto il diritto di farci vivi con l'amministratore del condominio e anche con il direttore dei lavori. Torniamo a parlare di lavoro e più precisamente di collaboratori domestici. Vediamo quali sono i passaggi per una corretta assunzione. Buona giornata a tutti. L'argomento che mi è stato da molte persone mi è stato sollecitato è un argomento che interessa molti ed è l'assunzione di un collaboratore domestico, una collaboratrice domestica o comunque una persona legata al lavoro domestico, potrebbe essere anche la badante. Allora innanzitutto fondamentale mi sembra l'interesse sia di chi dà il lavoro, sia del lavoratore ad andare ad una regolarizzazione di tutti questi rapporti. Non semplicemente per un rispetto di criteri di legittimità, non semplicemente per un problema di evitare, e non è un problema da poco però, evitare causi contenziosi, interventi dell'Ispettorato, dell'Inps o quant'altro, ma anche perché, per il motivo molto semplice, che un'assunzione regolare dà chiarezza tra le parti, dà chiarezza nei confronti dello Stato e soprattutto consente, in modo particolare sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, una assicurazione del rapporto del lavoro, in modo particolare di fronte a ipotesi di infortunio. Quindi, attenzione, il mio consiglio è di decidersi e evitare nel modo più assoluto di avere persone che hanno un rapporto, che hanno un respiro, una continuità, che non hanno una loro regolarizzazione. Attenzione, molte persone mi dicono «E però, per fare una roba del genere, devo andare da un consulente, devo andare dal commercialista, devo andare dall'avvocato, devo andare dal patronato, non si può, è un traffico». Non è mica vero, eh. Attenzione, non è vero. Su questo, io che sono fortemente critico nei confronti dello Stato, degli organismi statali, tante volte, però devo riconoscere che l'Ibs ha costruito un meccanismo organizzativo per la regolarizzazione dei collaboratori domestici che funziona e che è oggettivamente di facile accesso, di facile utilizzo, per cui ciascuno può utilizzare, fare da solo. Eventualmente, se uno ritiene, va a un'associazione, va a un sindacato, va a un patronato, però se uno vuole anche cimentarsi da solo, attenzione, non è assolutamente difficile. Cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto, chi può essere assunto? Possono essere assunto sicuramente i cittadini italiani, i cittadini europei, quindi non italiani, i cittadini europei anche nello cosiddetto spazio se, e cioè quindi anche svizzeri, norvegesi, quant'altro, che pure non fanno parte di questi stati della comunità europea, stranieri con permesso di soggiorno. Il consiglio è di chiedere, quindi, parlo del datore di lavoro, che vuole assumere un domestico, una domestica, bisogna chiedere alcune cose. codice fiscale, un documento di identità, la tessera sanitaria è sempre utile, e eventualmente, se è uno straniero, il permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di lavoro in Italia. Nel caso in cui, invece, sia soggetto straniero senza questo permesso di soggiorno, il consiglio lì, sì, è rivolgersi, a quel punto a un patronato, rivolgersi a un'organizzazione sindacale di datore di lavoro per fare i meccanismi di regolarizzazione e di ingresso in Italia di cittadino straniero. Tra parentesi, norme particolari anche per i minori tra i 16 e i 18 anni, perché lì esistono norme di idoneità particolare da parte dell'ASL. Dopodiché, la prima cosa da fare, una volta che uno ha raccolto i documenti, è fare un contratto. Attenzione, non è neanche obbligatorio, il contratto potrebbe essere anche fatto a voce, ma il mio consiglio è di fare due righe. Ah, ma il contratto è un problema, come fare il contratto? In un contratto non è che bisogna scrivere tante cose, le cose da scrivere sono sostanzialmente quattro, forse cinque, quattro. Quando il lavoratore comincia, vabbè, le parti tra chi è fatto, ma poi regolare, quando uno comincia, quale è il suo orario, e quindi i giorni e l'orario di lavoro, quale sono le mansioni, cioè cosa uno fa, che alla fine è ovvio, la retribuzione che viene concordata. Ho messo un quinto eventuale, un patto di prova, se uno per un certo periodo ritiene di regolare il rapporto con un patto di prova. una volta che uno ha fatto un contratto, ha stipulato queste robe, può semplicemente scrivere, rinviare per il resto al contratto collettivo nazionale di lavoro, che è facilmente recuperabile e scaricabile da internet. Una volta che uno ha raccolto i documenti, fatto un pezzo di carta, un foglio di carta con queste cose, con questi quattro elementi, il datore di lavoro, il datore di lavoro, deve regolarizzare presso l'Inps. Come si fa? Una cosa molto semplice, si può accedere al sito dell'Inps, inserendo regolarizzazione colfa, c'è anche la possibilità di farlo telefonicamente attraverso un contact center, cosiddetto, se vogliamo il numero è 803164 da fisso, poi c'è un numero mobile che è 06164164 che si possono dettare i dati al telefono, se uno preferisce, i dati li può inserire direttamente a computer. E quali sono i dati? I dati sono l'indicazione di quando uno comincia, di quando il lavoratore, le cose che ho detto prima, la retribuzione, i dati anagrafici della persona, quanto lavora, il tipo di lavoro, l'orario e quant'altro, che vengono inseriti in il modulo che è assolutamente, devo dire, agevole e semplice da compilare. Quel modulo deve essere, questo però invece è importantissimo, fatto, quanto meno, fino al giorno prima, non può essere fatto ad inizio rapporto di lavoro, deve essere fatto fino alla mezzanotte da notte del giorno prima, ma cosa succede poi se il lavoratore non viene a lavorare, se decidiamo di non farne nulla, entro cinque giorni si può annullare tutto. Quindi, il consiglio è regolarizzare, non è assolutamente una cosa difficile, se vedete, entrate sul rapporto di lavoro, sul sito dell'Inps, vedrete che è assolutamente agevole e con guide su come svolgere la regolarizzazione, la possibilità in questo modo di avere una situazione di sicurezza, soprattutto per evitare incidenti e infortuni sul lavoro e quindi oltre che la previdenza sociale per il lavoratore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.